Demetos Demir e Sucru Osildiz sono esplose sui social media la serie drammatica della famosa attrice Demetos Demir intitolata The House of Your Birthdays Your Destini sarà presto definitiva. L'attrice, che ha mostrato una performance di successo nella serie che si appresta a salutare il pubblico a metà maggio, inizierà il suo nuovo progetto a giugno senza avere la possibilità di riposarsi. Demetos Demir ha dedicato i mesi estivi alle riprese. Sucru Osildiz sarà il suo partner nel nuovo film intitolato Love Tactics, che tipo di coppia saranno e già stato discusso dai loro fan. Demetos Demir è l'attrice più popolare dell'ultimo periodo. Sucru Osildiz, invece, è tornata sullo schermo con la serie tv Akinci dopo aver preso parte a lungo al musical Alice. Anche l'attore, che si mantiene in forma per il personaggio di Akinci, sta facendo una dieta e prestando attenzione a ciò che mangia, si è comportato bene. L'aspettativa è alta che l'incontro di Sucru Osildiz e Demetos Demir sia diverso e impressionante. I fan stanno già condividendo post in cui affermano di essere entusiasti dei social media. Inoltre, vengono pubblicati anche molti post che mostrano due nomi nella stessa foto. Sui social media, questo duo è già esploso. Migliaia di post vengono pubblicati ogni giorno e l'interesse per questo duo è in aumento su piattaforme diverse. I due erano molto vicini l'uno all'altro. Non solo i telespettatori turchi, ma anche i fan stranieri esprimono nei loro commenti che non vedono l'ora di vedere questo duo. Due attori famosi, la loro armonia e le energie sono altri argomenti che sono anche curiosi. Ogni mossa di Demetos Demir è ora seguita da vicino dai suoi fan. Un'ampia ondata di interazione è stata avviata sui social media riguardo al film. Anche su Sucru Osildiz si parla di più a causa di questa ondata di interazione.